Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi faremo la live reaction ai sorteggi di Champions League Stanno per iniziare, ovviamente le squadre italiane sono Milan, Napoli e Inter Purtroppo la Juventus non è passata da Staino Europa League Più tardi usciranno anche i sorteggi, la live reaction ai sorteggi di Europa League Ragazzi, ve lo stanno per iniziare Vediamo chi becca ragazzi, perché è veramente interessante vedere chi piglia il Napoli Chi piglia l'Inter e chi piglia il Milan Ragazzi, a dopo, stanno per iniziare e sono carichissimo A tra poco Ragazzi, stanno cominciando, prima palla presa, vediamo chi piglia Ha preso una palla, ha preso una palla, vediamo Prima squadra della seconda squadra del giorno è il Lipsia ragazzi Lipsia, prima squadra, prima squadra presa e affronterà ovviamente Può prendere il Napoli e può prendere, non può prendere il Milan e non può prendere l'Inter ragazzi Quindi vediamo se prende il Napoli Vediamo un po', chi può prendere, stanno girando ste valle finalmente dopo tutto sto tempo Vediamo un attimo chi prende il Lipsia, prima squadra Può prendere il Lipsia, può prendere il Napoli ragazzi, ve lo ribadisco Chi pesca, può pescare l'Inter e il Milan ragazzi, vediamo Bruce ragazzi, club Bruce, vediamo contro chi può giocare, può giocare ovviamente anche lui con il Napoli Quindi vediamo se piglia il Napoli Vediamo, vediamo, vediamo se piglia il Napoli, secondo me lo piglia, dai Diciamo così, club Bruce Napoli, vediamo un attimo Se lo prende Vediamo Sta mischiando ste palle, vediamo un attimo cosa pescano Ha preso una palla, sta aprendo Bruce contro Benfica, Benfica, Bruce, non ha pescato il Napoli Si fa ancora più dura per il Napoli adesso ragazzi Comunque club Bruce SL Benfica ragazzi Poteva essere la Juventus qui Se finiamo primi, bel giovane comunque Bella estrazione comunque Andiamo alla terza palla adesso Vediamo Terza palla ed è Il Liverpool ragazzi Il Liverpool ovviamente non può prendere il Napoli Però vediamo contro chi viene estratto Può prendere il posto, Bayern Monaco e Real Madrid ragazzi Quindi una bella partita, può essere estratta comunque vediamo E prenderà il Real Madrid ragazzi, Real Madrid Liverpool Real Madrid Liverpool partitone, partitone ragazzi Real Madrid Liverpool ancora una volta La fotocopia della finale del 2018 ragazzi Ancora una volta si ripete, si ripete Quarta palla Vediamo Qual è Vediamo Il Milan ragazzi, Milan Il Milan Vediamo contro chi viene sorteggiato Può prendere il porto, Bayern Monaco o Tottenham Ragazzi Qua veramente diventa difficile Porto, Bayern Monaco o Tottenham Vediamo contro chi viene estratto Spero non sia troppo difficile per il Milan Vediamo Vediamo Sta prendendo questa palla Vediamo contro chi viene estratto Tottenham, Milan Tottenham ragazzi Milan Tottenham Purtroppo ha preso una squadra un po' forte Però comunque bella partita Tottenham, Milan Prossima estrazione Speriamo che non prende una squadra un po' difficile Il Napoli Anche se può pigliare il PSG Ve lo ricordo Ed è l'Eintracht di Francofort Ragazzi Può pigliare il Napoli Quindi vediamo se piglia il Napoli Può pigliare il Napoli Porto, Chelsea Quindi Vediamo se piglia il Napoli Può anche darsi Non lo so Eintracht Vediamo Stanno mischiando Stanno mischiando per bene Vediamo L'aprendo Giocherà contro il Napoli Eintracht Francoforte Contro il Napoli Ragazzi Estratto Eintracht Francoforte Napoli Seconda italiana Milan Tottenham E Napoli Eintracht Di Francoforte Ragazzi Bella partita Bellissima partita Diciamo così Diciamo così Ragazzi Diciamo così Adesso c'è l'Inter Da estrarre Abbiamo fatto con l'italiano Ovviamente Vediamo Contro chi Abbiamo il Borussia Dortmund Ragazzi Borussia Dortmund E contro chi Verrà estratto Vediamo un attimo Può prendere il Porto O il Chelsea Porto o il Chelsea Secondo me Piglia il Chelsea Dai Piglia il Chelsea Vediamo così Buttiamola così Piglia il Chelsea Dai Mischia bene Secondo me Piglia il Chelsea Gli ho detto La sparo così Piglia il Chelsea Piglia il Chelsea Chelsea Dortmund Ragazzi L'ho detto Io ste cose Le so meglio di tutti Piglia il Chelsea Chelsea Borussia Dortmund Ragazzi Chelsea Borussia Dortmund L'ho detto L'ho detto Ragazzi L'ho detto L'ho detto Ultime due squadre Ultime due squadre Che se non sbaglio L'ultime L'Inter Quindi secondo me Questa può essere L'Inter Contro qualcuno Ragazzi Ed infatti L'Inter Ragazzi L'Inter Contro chi giocherà Vediamo un attimo Può giocare Contro il Porto Ragazzi Quindi si è beccato Il Porto Inter Porto Ragazzi Si è beccato Il Porto Perché non può Prendere il Bayern Quindi si è beccato Il Porto Ragazzi Si è beccato Il Porto Ovviamente Si Inter Porto Infatti Stanno già mettendo Senza neanche Estrarre Inter Contro il Porto Vediamo il Bayern Monaco Contro chi giocherà E niente Comunque PSG Contro Vediamo PSG Ovviamente Contro PSG Vediamo Non stanno essendo Una palla Vediamo Contro chi giocherà Contro il Bayern Monaco PSG Bayern Monaco Ragazzi Partito Anche questo Comunque Ragazzi È stato Un sorteggio Veramente Un po' Duro Per l'italiano Comunque Però È Estremamente Interessante Lipsi Manchester City Bruges Benfica Liverpool Real Madrid Milan Tottenham Eintracht Franco Porto Napoli Borussia Dortmund Chelsea FC Internazionale Milano Porto PSG Bayern Ragazzi Spero che questa reazione Vi sia piaciuta Commentare Scrivete al canale Ci becchiamo Ovviamente Tra un'ora Con la reazione Dell'Europa League Ovviamente Sta anche La Juventus Commentare Scrivete al canale Ci becchiamo Ciao ragazzi Ciao ragazzi